Ben trovati a questa nuova edizione di Senior News. Vediamo i titoli. Il 24 luglio è la giornata mondiale dei nonni e degli anziani, la celebrazione nella Basilica di San Pietro. I nuovi contagi Covid nel mondo continuano ad aumentare a livello globale per la quinta settimana consecutiva. Questo emerge dal nuovo bollettino epidemiologico dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che nella settimana dal 4 al 10 luglio registra oltre 5,7 milioni di nuovi casi con un aumento del 6% rispetto alla settimana precedente. Il numero più alto di nuovi casi viene segnalato in Francia, seguita dagli Stati Uniti e dall'Italia. Il numero di nuovi decessi settimanali resta invece simile a quello della scorsa rilevazione con oltre 9.800 decessi segnalati dall'OMS. I contagi Covid stanno crescendo nuovamente ad un ritmo sostenuto. Bisogna perciò rafforzare le protezioni dei malati più fragili. Invitiamo tutti i pazienti oncoematologici, trapiantati e le persone con gravi forme di patologie reumatologiche a sollecitare i propri medici curanti per la profilassi anti-Covid. È questo l'appello lanciato da Roberto Messina, presidente di Senior Italia Federanziani, secondo cui circa 150.000 persone possono usufruire della terapia. Oggi infatti è disponibile una combinazione di monoclonali che è in grado di ridurre dell'83% il rischio di sviluppare la malattia in forma sintomatica nei pazienti fragili. Che fino a che non c'era profilassi, diciamo così, c'era oltre il vaccino nulla. Adesso oltre il vaccino è un'altra cosa, quindi va benissimo nel senso che però sono sensibilizzate le persone che hanno questi fattori di rischio che sono anche abbastanza note sul fatto che il Covid non è che è sparito. Il Covid esiste, tornerà a ottobre, speriamo, in forma più lieve ma non lo possiamo sapere. La profilassi è un profilo di sicurezza assolutamente superiore perché anche le persone che non hanno benefici dal vaccino diretto possono avere un'altra soluzione che è facilmente perseguibile e a bassissimo rischio clinico. Ci sono i criteri AIFA che sono quelli che poi alla fine definiscono l'erigibilità o meno al trattamento al paziente che sono i criteri coerenti tra l'altro con i risultati clinici degli studi prodotti ma quei pazienti che hanno questo tipo di tipologia, quindi pazienti con quematologici, con sierologia negativa quindi non hanno anticorpi, con questo tipo di intervento di profilassi hanno sicuramente dei benefici anche nei prossimi mesi per almeno sei mesi. Una nuova ondata di caldo africano ha raggiunto la penisola dando il via a quelli che saranno i giorni più caldi dell'estate del 2022. Le temperature stanno già salendo ma all'inizio della prossima settimana la colonnina di mercurio arriverà a oltre i 40 gradi soprattutto al nord. Massima attenzione in questi giorni ad anziani e fragili come ricorda il signor Italian nel suo decalogo anticaldo per proteggere i nostri nonni. Evitare di uscire nelle ore più calde della giornata, bere almeno un litro e mezzo di liquidi al giorno, consumare pasti leggeri e arieggiare l'ambiente dove si vive. Sono solo alcuni dei consigli del decalogo salvavita di signor Italia Federanziani per contrastare il caldo e proteggere le persone più fragili come i nostri nonni. Con il caldo che torna a farsi sentire infatti gli Over 65 devono tener conto di questi accorgimenti per scongiurare situazioni pericolose così come è importante che tengano il capo riparato dal sole indossino abiti leggeri fatti di tessuti naturali per favorire il passaggio dell'aria. E' altrettanto importante ricordare ad anziani e fragili di non interrompere o sostituire di propria iniziativa le terapie mediche e di consultare sempre il medico per eventuali modifiche delle cure. In occasione della giornata mondiale dei nonni e degli anziani di domenica 24 luglio la diocesi di Roma ricorda che la partecipazione alla celebrazione nella Basilica di San Pietro è libera ma per accedere è necessario ritirare il biglietto gratuito nella portineria del vicariato dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. L'ingresso in San Pietro potrà avvenire a partire dalle 9 e 15. Per tutti coloro che per particolari esigenze avessero necessità di accedere in macchina è prevista la possibilità di parcheggiare in un'area prossima alla Basilica. In tal caso bisogna fare richiesta scrivendo una mail a famigliacchioccioladiocesidiroma.it indicando nome e cognome e numero di cellulare. Si ricorda che il numero di parcheggi è perciò limitato. E per oggi è tutto. Prima di salutarvi vi ricordo che sul sito signoritalia.it potete rivedere questa e tutte le altre edizioni. Arrivederci. Grazie a tutti.